Ciao ragazzi, questa sera vi faccio un po' di magia direttamente dall'ospedale per tirarci su un po' il morale. Allora prendiamo il mazzo di carte e andiamo a dividerlo più o meno a metà, in questo modo. Ok, ora mescoliamo questa metà e quest'altra metà. Ora da questa metà mazzo andiamo a prendere 5-6 carte, più o meno, e le mettiamo qua. E da quest'altra metà mazzo prendiamo sempre 5-6 carte e le mettiamo qui da parte. Perfetto. Andiamo a mescolare le carte prelevate e ne ribattiamo una qualsiasi, ad esempio questa. E facciamo lo stesso da quest'altro mazzetto, mescoliamo e ribaltiamo una carta qualsiasi, ad esempio questa. Perfetto. Ora ribaltiamo questo mazzetto e andiamo ad inserirlo all'interno di quest'altro mazzetto, con un mescuglio all'americana. E facciamo la stessa cosa con quest'altro mazzetto. Perfetto. Ora per andare a incasinare ancora di più il mazzo ribalto questo mazzetto e lo intreccio con quest'altro. Perfetto. Ora però mi basta semplicemente schioccare le dita e tutte le carte dello stesso colore tornano insieme, tranne una e una sola carta, la carta rossa che avevamo ribaltato all'inizio. Bene ragazzi, spero che l'effetto vi sia piaciuto, se così fosse vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!